Eccoci, un attimo solo, escono gli ultimi led, si aprono le gabbie, allora adesso è il momento. Codaliscia e Guadalupe, è in vantaggio lungo la corda a Birch Noir, davanti a Last Gif, l'alternativa, Ganelforce, Codaliscia, Gran Bounty e se passa a Last Gif, davanti a Birch Noir, Codaliscia, l'alternativa, si avvantaggia a Last Gif, davanti a Codaliscia, l'alternativa, Birch Noir senza sudore, facilissimo Last Gif, davanti all'alternativa e Codaliscia. Grazie. 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 Grazie.